avrà fatto sì l'avete fatta la laio però facciamo solo le pratiche oggi perché poi andiamo chi vuol venire lì al 1.3 diffusione del team post 2007-2013 ridefinizione programma di interventi approvato con deliberazione 1028 del 2011 si va alla vicepresidente numero 12 indirizzi per la predisposizione del programma di attività dell'agenzia sanitaria regionale per l'anno 2014 va bene la potete vedere il polo arena va bene la potete vedere poi del vicepresidente 13 4 invece qui ci sono i dati accreditamenti il numero 16 di rivederla come bilancio allora 16 approvazione della maletà per i fondi anno 2012 derivanti dalle sensazioni quindi venerdì prossimo numero 17 il vicepresidente aggiornamenti del programma di un secondo venerdì prossimo scusate un attimo nel pomeriggio seguitemi un attimo per esempio nel pomeriggio bisogna fare alcune materie che inviamo oggi che sono molto spesse non lo dico per tempo perché vi disegnate libri non è la sanità perché specialmente perché il def che deve guardare la settimana e temo che pagheremo peggio ma è bellissimo e poi c'è tutto il pacchetto lavoro insomma no che abbiamo discusso anche un po' con il ministro poletti insieme ad Enrico non lo facciamo un lavoro quindi sì ma non possiamo fare la sanità per poi non c'è ma il lavoro c'è porto a dare i tiri perché porto in senso la invitiamo per facciamo politiche attive del lavoro no lui ha chiesto rispostarle lo sto stai per dire pipo non c'è problema le cose che mi hanno chiesto di rinviare per diverse motivazioni ma una perché lui si è occupato tantissimo d'altro e uno perché non c'è su sanità e lavoro il resto del programma di oggi è c'è scritto qui personale alle 14 e 30 che arriva gli invasori no martedì in consiglio così siamo preparati insomma poi il fondo della disabilità è spostato a martedì mattina alle 9 abbiamo detto no giusto sì e quindi non c'è poi bisogna aspettare alle 15 le 16 quando arrivano diciamo da FIER poi FILS e parliamo di TPL che è molto importante perché martedì rispettiamo in consiglio e dopo avrà chiesto un punto su immobili affitti vogliamo mettere al posto della al posto della disabilità alle 15 lo facciamo alle 15 e 30 immobili affitti ok pipo si ma tanto alle 4 avevano TPL quindi facciamo diciamo adesso per le idee non possono non indicare quindi facciamo personale immobili affitti TPL per cartolarizzazione vi aggiorno un po' ma non c'è moltissimo settimana prossima invece facciamo lavoro sanità lavoro e casa perché ho uscito il decreto hai visto non ha fatto vedere sulla casa sono giusto un po' tu venerdì prossimi va bene venerdì c'è la sopra generale ma ci va di mattino no a pomeriggio via sul lavoro la posizione delle regioni c'è questo miliardo non spalmiamolo su tutta l'estate ma dove c'è bisogno la regione del sud avendo riuscato su questo il recibo in un test dell'estate dice Rani è un po' così piano va bene ok Nelton Camminisci Nel 17 del Presidente aggiornamento del programma di quella DVR 1440-2013 programma per la realizzazione di interventi presentare questi dati che ha giudiziato prima della 18 alla 23 perché è collegata alla 18 però che sarà provata prima Nel 23 dell'assessore Briano modifica legato a paragrafo 3 della deliberazione 811 del 2013 un po' cambiato lo già no ehm relativa alla gestione dell'elenco della giornata di protezione civile antincegno via veloce perfetto poi numero 18 dell'assessore Barbagallo adesione della regione di Bure via 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 numero 19 Assessore Berlangeri modifiche e criteri per il bilancio dell'autorizzazione per l'articolo 3 numero 20 Assessore Berlangeri 10 anni di programmazione risorse par fatto 2007-2003 linee di azione valorizzazione beni culturali di partizione fondi FSC linea complessi monumentali è il complesso monumentale di Staglieno il risalamento conservativo del porticato inferiore 400 mila euro l'intervento 80 mila al cofinanziamento del comune 320 la quota FSC e poi è il completamento l'ultimo lotto di Palazzo Stella del comune Triora la spesa 525 rotti 420 mila rotti la quota FSC e 105 mila la quota del comune questa cosa qui oggi va detta perché è una cosa bella di conferenza stampa scusa volevo dire una cosa a Giovanni Boicara bene a due Giovanni vi aspetto sono molto attenti a Roma diciamo alla velocità di spesa ci fai per la settimana prossima al pomeriggio anche un aggiornamento sul decreto del fare che riguarda le scuole ecco visto che poi fanno pubblicare queste tabelle vuole capire come siamo eravamo così così si viene bene la metà classifica se dovete fare le scuole stanno partendo hanno fatto legato si si poi portaci un quadro si si vede lo porto comunque stanno partendo tutti i 30 interventi va bene ok allora numero 21 dell'assessore Boitano legge regionale 10 del 2004 artigiana autorizzazione quindi diamo anche questa era conferenza stampa se lo ricordiamo si ma questo è bello si l'interi storia è una cosa grossi il vincolo patrimonio di arde di modo di proprietà comunale Villa Posalunga e localizzazione risorse di vista sovvenzionata pari a 300.4364 per il completamento del club di San Teusebio c'è capito niente rilasciò di risorse da Villa Posalunga Borgorati che il Comune è compiuta a queste risorse che sono state spese con l'accordo con il comune eccetera rispostiamo a Sant'Eusebio in salita merica sistemiamo unici a noi ci facciamo sistemiamo il centro sociale e l'area esterna è un intervento che va a concludere tutto l'intervento di San José. Bene, bene, bene. Assessore Rossetti, corrispettivo di ferito conseguente all'operazione di cartolizzazione e di contanzione al 30 giugno e di terminazione del Pondoristi. Convenzione Regione Arte. Numero 28. Assessore Rossetti, approvazione figura professionale dell'operatore per la produzione della carta e del cartone e il suo inserimento nel repertorio l'Ugo delle figure professionali. Passi 29. Assessore Berlangeri, una deliberazione di approvazione di regolamento regionale, modifiche da portare ai regolamenti regionali numero 2 2009-3 2010. Sì, risolviamo il problema San Furturo. Vanni, San Furturo. Eh? L'ospedalità diffusa. L'ospedalità diffusa che anche lì porterò a breve una delibera che è la cosa che aveva accennato. Sì, questa cosa è San Furturo, ma non l'avevo più finita. Ma come ho detto? Se ci diamo una volta forse questa locanda... No, 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 questa fa parte di cosa finita. Ma se finita fare un progetto di affinità diffusa con... Finita, la locanda è vuota. Sì, però, a parte la locanda, perché, insomma, appara a parte di tutto. Insieme agli altri operatori... Ho detto solo che mi piacerebbe vedere la locanda assegnata, visto che è finita. Prefimi sul giornale le critiche perché ci piove dentro, cose varie. Ma qui sarà difficile poterlo risolvere. Perché? Perché lo che rifacciamo i seramenti tutti gli anni, se non è difficile. Perché ci hanno obbligato i seramenti in legna. Non ci sono le persiane, non c'è di gronda, perché la gronda è 15 cm alla genovese di una volta. Quando piove a morte lì l'acqua è... Non è che ci piova, è come le case di una volta, povere. E quindi... Ma ci è tutto piove a vedere. E la sovraindendenza, sovraindendenza, ci ha chiesto di farle come... Ma all'interno ci può mettere un altro seramento leggero. Doppio vetro... Ma metterlo un po', dai, che non è possibile affettare a casa chi piove dentro. Ma no, però... Quando avevamo gli anziani con i finestroni, c'erano gli spifferi. Ma perché evidentemente non... Non mi ha fatto risolvere. La sovraindendenza, ti denunciavo. Anche te non ha una finestra, come dice Giovanni... Non è possibile. No, no, andiamo a verificare ciò che è così e ciò che è... Tra l'altro io è stato complicato, sai. È stato complicato, ma anche che evidentemente non è facile parlare una soluzione. Deve essere l'intento... Andiamo avanti, dai, va bene, non mi voglio contadino. Andiamo avanti. Andiamo avanti, dai. Allora, del Vice Presidente e Assessore Rossetti ha certamente l'impegno e risorse assegnata da aziende sanitarie ed enti e equiparati del servizio sanitario regionale. Dell'Assessore Ramaldi, modificazioni allo schema di convenzione tra regioni Liguria e Liguria International per il supporto tecnico-operativo al programma Brasile proprio. Sono un momento dei tempi della convenzione. Le volte che ci stavo mi scappa da ride perché un progetto è cominciato quando curavano povere e noi discretamente... Quando loro sono ricchi e noi siamo discretamente poveri. e vicepresidente del Fondo Sanitario Nazionale 2013 sistemazione contabile delle coste di mobilità attiva e passiva. Fondo Sanitario Nazionale 2013 sistemazione contabile è la chiusura dei conti del 2013 Basta, basta. Del Presidente estinzione della Fondazione Mediterraneo con sede di Sestri Levante Genova iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato. Benissimo. Sì, questa è il Comune di Sestri Levante che ha deciso di sciogliere la condizione e che ci mette dell'attività produttiva al suo posto, no? di direttore 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 poi assessore allora tra delibere congiunte firma Faita Guccinelli allora FSC 2007-2013 riprogrammazione 2014 interventi di ripristino messo in sicurezza della viabilità provinciale e comunale del territorio Ligure assoluto gli eventi alluminati approvazione primo programma interventi a favore dei comuni impegno euro 1.318.000 euro vuole una coppia c'è non la fa ma che servirà che per la coppia di quest'anno non la facciamo noi ecco, leggilo un po' sbordighiera sono quelle grosse no? allora dunque ricapitoliamo un secondo solo brevemente comunque io ho fatto tutta la questione delle accise poi vediamo quelli che sono i rosparmi che derivano dagli anni precedenti su cui dobbiamo comunque lavorare per quanto riguarda la tipologia A cioè azioni isolate senza alternative di aria ok? io ho cercato di mettere nelle accise quelle piccole e nei pass quelle un po' più grosse perché il tema della remicondazione diventa pesante se la facciamo per le cose troppo piccole ok? quindi questa è una prima pass è quello che sono riuscita a fare questa settimana e poi siccome da oggi un po' voglio portare tanti delibere e quindi e quindi tutti i giorni vi porterò una bella delibere e questa qui è per il comune di Borbighiera comune di Ceriana comune di Sanremo comune di Rezzo comune di Andorra e ci siamo ah dico che era il tuo Pippo vado al quattro io ho fatto ne faccio quattro per sempre ok questa è prima pass prossima settimana eh porterò dell'altro pass ok? presentiamo questa oggi allora questa è quella di Angelo insieme alle due schede ok? poi ha sempre la professore Paeta Buccinelli lavori urgenti di ripristino del corpo stradale danneggiata seguito agli eventi meteorologici del 26 dicembre 2013 sulla statale provinciale 225 in comune di Bargalli per riprogrammazione parla FSC impegno di Euro 540.000 ma questa qui però non l'avevo messa nei vostri nel 13% nei 13 milioni mi ha detto la parola di Ferriere no 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 mi ha detto di sì la non calla mi ha fatto la preparata lei comunque se volete la non calla mi ha detto lei la non calla la prendiamo subito sosteniamo la cosa siccome io ho andato a vederla con voi ora non ce n'è anche già mi ero impegnata eccetera noi non ci abbiamo messo delle cose secondo me no è così però mi avevi chiesto ma basta basta adesso è così basta le piccole cose le abbiamo mette nei quelli suoi sono sicura allora basta non so se è sicuro non vogliamoci niente andiamo a guarda anche questa cosa si mi ha fatto trovare una meno quattro effetto comunque questa è la strada delle ferriere effetto ok e poi poi ce n'è un'altra impegno di euro un milione cento sui fondi para FSC 2007-2013 approvazione dello schema di convenzione tra regione Liguria Anas provincia della Spezia comune di Borghetto Vara per rifacimenti di due ponti sul torrente Pogliastino allora ponti di Borghetto ho cambiato il progetto riapportiamo la convenzione e siamo in conferenza dei servizi e si fa anche quindi pacchetto fa strutture pacchetto colture diciamo presentiamo più o due le schede di euro tra virgolette non ha sufficiente quella che abbiamo? diciamo delle foto colture possiamo lavorare con le schede oggi con una cartellina però andiamo e facciamo sul sito andiamo a vedere del prossimo perfetto 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 eh scusa mi scusa ma poi io porto perfetto allora lo mangio lo mangio non lo mangio erano le altre cose che ci ha chiesto che invece ne abbiamo andate noi come sono urgenti sui dubbi e avanti grazie Presidente Assessore Vesco aree interne progetto eh pilota mobilità per le valli dell'antola va benissimo ok adesso tu dovresti dovresti costaggersi il capo di cenere assolutamente no come no ma no assolutamente no mi chiedo di ruotare eh ma tu hai meno incattività e si vede che hai una premonizione io adesso dovevo andare e poi del presidente concesse del patrocito io finito no poi dell'assessore del vicepresidente anzi sostensione dell'apprenditamento istituzionale dal centro ambulatoriale ma poi 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 abbiamo dell'assessore Arambaldi una deliberazione di approvazione di regolamento regolamento regionale di attuazione dell'articolo 8 legge regionale 52 del 2009 norme contro la disseminazione per l'orientamento sessuale dall'identità di genere e poi invece la proposta dell'assessore Briano urgentissima calendario venatorio regionale per la stagione va bene infatti non sono finito perché poi ci sono le comunicazioni veloce 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 titoli allora titoli del presidente un attimino ragazzi che devo scendere ci tengo allora commemorazione tragedia traghieto poi trovate qualcuno quello si è fatto prima di giugare poi precetto pasquale per le forze armate va bene trovate qualcuno si poi cerimonia provinciale per le separazioni del 8 maggio pellegrinaggio ai lager cerimonia mondiale poi assessore cascino aree de maniali comunicazione aree de maniali marittime attività dei comuni per i pubblici e poi dell'assessore rossetti di adesione alla stazione unica paltanto comuni di buone le ricche alle ricche alle ricche alle ricche alle ricche sce tue un sud Grazie. Grazie. Grazie.